Ben trovati nello spazio di Edizioni Graff dedicati ai consigli sulla lettura. Oggi vi vogliamo parlare di un libro di cui in realtà già si sta parlando in sufficienza perché è primo in classifica e tutti ne stanno parlando. Il libro rivelazione della fiera di Francoforte, però non si sa chi sia l'autore. Vi sto parlando dell'ipnotista di Longanesi, di questo misterioso Lars Kepler di cui si sa poco o niente. Brevemente la trama. Siamo a Stoccolma e un'intera famiglia, o quasi, viene massacrata. Per risolvere il caso si richiede l'intervento di un noto ipnotista, tale Eric Maria Bach, il quale, dopo parecchi anni di ipnosi, decide di abbandonare l'ipnosi proprio per le conseguenze devastanti che questa provocava. Così, dopo dieci anni di astinenza, una notte, lo squillo di un telefono lo sveglia e lo costringe letteralmente a praticare di nuovo ipnosi, creando situazioni agghiaccianti intorno a lui e alle persone che gli sono care. Ora, mi rendo conto che la trama può sembrare banale, ma vi assicuro che è densa di spunti che vale la pena scoprire. È per questo che abbiamo deciso di consigliarvelo, non perché è il libro del momento, ma perché crediamo che valga la pena farsene un parere personale, non influenzato dai media. È un thriller, sì, ma non è solo un thriller. È giallo, è noir, c'è psicologia dentro, c'è qualcosa che si insinua nei vostri pensieri e nella vostra vita, seppur completamente lontana dal mondo dell'ipnosi. Vi leggo qualche parola per darvi idea del ritmo di questo libro. Come fuoco, esattamente come fuoco. Queste sono le prime parole pronunciate dal ragazzo sotto ipnosi. Queste sono le parole che aprono le porte dell'incubo. L'ipnotista Lars Kepler Longanesi Comico, caustico, eccessivo, irresistibile. La futura classe dirigente è l'attraversamento della linea d'ombra, nell'era della demenzialità istituzionalizzata e della volgarità al potere. Ma è anche l'analisi amara e impietosa di un paese, attraverso la messa alla berlina della sua santa trinità, la famiglia, il sesso, la televisione. Questa settimana vi proponiamo la futura classe dirigente di Peppe Fiore, edito da Minimum Fax. Un libro che si rivolge ai trentenni italiani precari, con alle spalle laurea, master, corsi, stagio, pagamenti, fasulli e perché fotografa perfettamente il momento storico che l'Italia sta attraversando. Ciò che maggiormente colpisce di questo libro è sicuramente il modo in cui è scritto. Una lingua sperimentale, di ricerca, che accoglie il parlato, appunto piena di umori linguistici. Un libro, devo dire, agrodolce, con quella risata malinconica tipica della commedia all'italiana. E lo stesso autore, Peppe Fiore, ha dichiarato di essere attratto dai personaggi sconfitti, perdenti, patetici, per chi sono così umani. La stessa umanità che caratterizza il protagonista del libro, Michele Botta, un giovane napoletano che si trasferisce a Roma, dove si laurea, fa un master e vaga due anni alla ricerca disperata di un lavoro, tra appunto stage fasulli e retribuzioni mai avvenute. Ad un certo punto viene assunto da una società di produzione televisiva, una realtà dinamica, giovane e ha così modo di confrontarsi con il mondo del lavoro e il mondo adulto. Apparentemente la vita di Michele è la classica vita borghese di un adulto medio. Ha una casa, una famiglia che gli vuole bene, anche se in modo aggressivo, una fidanzata che lo ama. Eppure, ad un certo punto, la nevrosi di Michele esplode, le strutture mentali su cui poggia la vita quotidiana franano e così viene risucchiato dal lavoro che ha i limiti dell'allucinazione. La fidanzata lo lascia, rompe il rapporto con la famiglia e appunto da tutto se stesso nel lavoro. Si ritrova a scrivere per un reality sui cani, dal titolo Qua la zampa, un programma orrendo, ridicolo, che non viene neanche portato a termine. Successivamente scriverà la sceneggiatura di una miniserie televisiva su un mitologico regista pornografico degli anni Ottanta. Diciamo che Michele non riesce più a supportare la situazione, divenne vittima di una confusione mentale alla ricerca di punti di riferimento e gli viene un dubbio. Gli avevano detto che la felicità consisteva nell'integrarsi, nel far parte della macchina mondiale, ma scopre che la felicità non è lì. La viscerale Napoli contro l'Algida Torino, cronaca di una giornata che per il popolo calcistico partenopeo ha il sapore della riscossa. 31 ottobre 2009, il Napoli torna nel salotto buono del calcio italiano e spugna lo stadio olimpico di Torino e batte la Juventus dopo 21 anni. Parliamo di sport, ovviamente. Seppelliteci qui di Raffaele Auriemma, l'ultimo prodotto di edizioni Graf, vuole ricordare una giornata che per ogni tifoso è rimasta impressa nel cuore. La giornata in cui finalmente il Napoli ha battuto, dopo appunto 21 anni, la Juventus in casa propria. Non a caso la prefazione è di un tifoso doc, Nino D'Angelo. È l'ultima perla edizioni Graf, imperdibile per ogni tifoso napoletano. A presto! A presto!